Non rientra la crisi in comune e Forza Italia spara a zero sul sindaco Biondi dopo un mese di trattative portate avanti dal senatore Guido Liris incaricato di fare da Pacere da Fratelli d'Italia è saltato l'incontro di sabato scorso che era riuscito a strappare dopo un mese non ha ritenuto il sindaco di incontrare il coordinatore provinciale Giorgio De Matteis così riferito da Liris stesso ma c'è di più Liris che De Matteis e il coordinatore comunale Stefano Morelli hanno voluto ringraziare per la pazienza e l'impegno ha portato al partito la proposta di Biondi Morelli all'exompia al consiglio di amministrazione ci riserviamo ora, detto Di Matteis, di capire come affrontare la cosa ma ne parleremo a livello regionale senza dimenticare che c'è una campagna elettorale in corso ci sono diverse ipotesi sulla linea da seguire ma comunque non è un attacco a Fratelli d'Italia che ben si è comportato ma al sindaco direttamente che ha fatto per loro uno sgarbo gravissimo Per quello che ci riguarda noi adesso ne parleremo in sede regionale nostra con il senatore Pagano e con le persone a cominciare dal sottoscritto agli altri che hanno questa competenza e decideremo i passaggi successivi naturalmente lasciamo aperto ogni ventaglio di ipotesi ripetendo che se il rapporto è buono con Fratelli d'Italia a livello regionale e nei rapporti diretti e personali evidentemente Biondi ha dei grossi problemi anche al suo partito perché parliamoci chiaramente se lui non riesce ad avere buoni rapporti con il suo partito questa è la testimonianza del mancato incontro che abbiamo fatto tra noi che avremmo dovuto fare tra noi e loro nei testimoni del fatto il senatore Liris faticosamente era riuscito ad ottenere questa volontà di incontro e poi si è sentito dire che non aveva intenzione di incontrarci di incontrarmi io li voglio bene, è il sindaco e la città però forse deve crescere un po' deve avere ancora un po' più di crescita per capire il senso dell'appartenenza a una istituzione come si gestisce un'istituzione i ruoli di questa istituzione perché ricordiamo che Biondi è sindaco, è segretario provinciale è anche responsabile degli enti locali se non ha capito come si rapportano i partiti nelle coalizioni istituzionalmente magari è meglio che faccia un altro mestiere Forse Italia aveva posto un problema di carattere politico fa parte o no di questa coalizione per il sindaco non è un problema che incide inoltre non volevano solo una semplice verifica ma parlare di temi molto importanti per la città come ad esempio la situazione grave per loro delle municipalizzate la situazione dei progetti case, scuola nazionale dei vigili del fuoco, traffico e tant'altro